Ciao ragazze bentornate nel mio canale nuovo video aliexpress li ho già spacchettati perché Carlo mio figlio era curioso come la biscia di sapere cosa c'è dentro io adesso ve lo faccio vedere al volo perché Carlo ce l'ha bisogno allora nel frattempo che Birba mangia la sua pappa di qua non è una cosa bella da vedere non ve la faccio vedere allora ho ordinato questi pantaloni che li avevo già presi li sto usando tuttora adesso sono belli strabelli ma veramente belli perché sono fatti benissimo sono stracomodi e sono fatti sono molto semplici sono fatti così così questo è il di dietro ovviamente non potete vedere così e questo è il davanti così adesso vado a vedere la taglia perché la mia taglia era finita fantastica ho sentito ho contattato la ventitrice mi ha promesso che mi avrebbe mandato questo giuva così vedete ed è elasticizzato io li uso per andare a ballare e sono veramente hanno il cavallo alto perché io ho il sedere a mandolino per cui ho bisogno di un cavallo alto e questi sono veramente fatti benissimo un ottimo cotone ma veramente fatti bene siccome ne ho un paio solo e andando a ballare di sabato e domenica non mi bastavano siccome la venditrice è stata veramente con te molto gentile ho guardato nel nel suo sito per vedere cosa c'era di ben ho visto questi slip 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 ho detto voglio prenderli birba finito sentite il piattino ha finito queste culotte e sono fatte così tovaglia di natale devo ancora andare a prendere ci avete ragione allora c'è già mia sorella che non ha detto queste sono quelle taglio laser vedete fate benissimo il cotone dietro è così praticamente leccando il piattino si sta portando in giro il piatto per tutta la cucina vuol dire che apprezza ed è fatto così sono a vita alta e sono veramente molto belle ho preso due paia allora un paio nere e un paio color carne ha anche un paio anche color rosa poi vi metterò ovviamente i prezzi adesso faccio l'inquadratura dall'alto così lo vedete meglio eccoci qua sono bellissime veramente il cotone è questo qui fatto così vedete mi piacciono veramente tanto anche qui e taglio laser per non segnare belle qua c'è la stampa per la taglia ci sono le misure in base alle misure voi scegliete la vostra la vostra taglia e questo è un ordine questo è l'ordine che mio figlio aspettava tanto allora in questo sito mi piaceva tanto questi questi sete di pennelli no sono pennelli da trucco ovviamente allora ne ho presi due da sfumatura perché quelli che ho io praticamente mi fanno i buchi negli occhi in sostanza ecco detto in mani in parole povere perché non sono morbidi mamma che morbidi mi sembra di averli presi quelli dove dove li ho presi non mi ricordo in un negozio ma non dai cinesi perché non sono così morbidi sono hanno una settola molto rubida e fanno male quando devi fare la sfumatura oltretutto che uno sfuma non abbia una beata mazza comunque gli ho presi due così poi c'erano questi set e ho preso questo set lingua di gatto fatto così ovviamente per gli occhi sono tutti per gli ombretti con tre misure diverse ovviamente questo è un po sbieco questo rotondo e questo così poi ho preso questi qui che dovrebbero essere tutti uguali sempre la lingua di gatto eccolo qua fatto così vedete molto piccolino anche per esempio questo quasi secondo me è buono anche per usarlo sotto l'occhio per mettere l'ombretto sotto l'occhio per sfumare l'occhio sotto questo sempre a lingua di gatto un po più grosso perché c'erano veramente le offerte che costavano un po con questi set di pennelli e allora ne ho approfittato insomma anche perché a me piace avere insomma uno per i colori chiari l'altro per i colori scuri insomma non mi piacciono poi non voglio sempre stare ogni volta a lavarli no questo qua andati così e poi questi qui tre quattro grossi e mi piacevano tantissimo vediamo come sono e poi il passo alla scatola quella che sta aspettando mio figlio e sono fatti così questo è così fatto in questa maniera è molto davvero morbidissimo ovviamente mi metti metto i link neanche dirlo questo è arrivato stamattina bello è veramente sono veramente fatti bene io ho cercato questo negozio per un motivo e adesso vi spiego questo qua è il pennello con la punta belli e quest'altro fatto così sembra un po tipo piatto sembra vedete e questa è tutta la serie dei pennelli nella scatola che pesa tantissimo e l'ho comprata comunque senza spese di spedizione non mi ricordo il prezzo ma non è non costa poco però c'è un perché allora io a natale ho cercato regalo uno dei regali per mio figlio e mio marito noi abbiamo la vasca da bagno questo è quello che ho voluto che ho acquistato vediamo se chissà che cos'è che ho preso allora queste sono le bombe da bagno perché le ho comprate dai cinesi perché qui in italia cavolo costano un capitale c'è veramente quella che è costata meno l'ho pagata 6 euro sono grandi così e sono veramente costa cioè è buona ottima l'ho comprata proprio in uno di quei negozi che fanno tutte saponette e tutte queste cose qua di saponi queste sono quelle bombe che le metti dentro nella vasca da bagno ci sciolgono e ti lascia la pelle profumata eccetera allora io ho voluto vedere se i coreani facevano vedevano queste cose qua ho trovato questo che è quello che allora mi piaceva di più questa è la rosa dopo ve ne apro una due per gusto questo è allo straberry per cui la fragola chissà che buono che è che poi io neanche posso fare la vasca eucalipto questa alla lavanda questa jasmine e questa lime allora apriamone una e vi faccio vedere com'è confezionata benissimo ecco queste sono praticamente le classiche bombe che costano pochissimo cioè non pochissimo ma sicuramente meno perché e se io la prendevo qui in italia una cosa del genere ci avrei lasciato uno stipendio per cui per questo questa fa praticamente la stessa funzione la metti dentro nell'acqua si scioglie ti lascia tutta la pelle morbida profumata eccetera e niente questo è bellissimo sono contenta che arrivato e poi vi lascerò il link sotto e vi dirò se poi sono buone come sono perché la prima volta che le compra insomma e basta questo è tutto vi lascio anche i pennelli qua sopra basta se avete domande richieste scrivete sotto un bacio al prossimo video a una domanda vi volevo fare allora avevo pensato siccome sto usando i rossetti ovviamente andando ballare ho notato della differenza tra vari rossetti allora ho pensato se vi fa piacere di fare una recensione di vari rossetti ditemi se siete d'accordo se vi fa piacere su questa cosa ve la faccio vi faccio vedere i rossetti che io non tutti perché sennò ci stiamo quale ore a fare il video però magari più recenti e vi avviso già che a me sono matt io amo i colori matt però c'è differenza da matt a matt tanta differenza quelli che sto messo sugli ultimi due sere sono fantastici perché non appiccicano sono veramente e non si tolgono manco morire ecco se vi piace l'idea e poi un'altra idea che mi piacerebbe fare fatemi sapere se questa idea vi piacerebbe è allora l'idea mia era fare un trucco un proprio un make up completo con i trucchi con tutti i trucchi di aliexpress partendo dalla base fondotinta correttore anche dal primer che ce l'ho e fino ai rossetti praticamente io ho tutto volevo organizzare sta cosa io non volevo farlo su di me perché io sono una ciospa volevo organizzare con mia sorella ma non non si non ci si riesce a organizzare sta cosa e fatemi sapere se l'idea vi fa piacere anche sapete benissimo che non sono una per my car pasti sono proprio un'embranata del genere però quello che ci tenevo farvi vedere farvi conoscere i prodotti e farvi vedere come sono tipo le polveri le gli ombretti per esempio fondotinta che sto usando adesso lo sto mettendo in un altro modo ed è fantastico c'è questi trucchetti che magari a qualcuno può aiutare per esempio no fatemelo sapere scrivete qua sotto se mi fate sapere vostre idee un bacio ragazzi ciao ciao vi voglio bene